Accenture Cagliari, Accenture Sardegna. Siamo al secondo anno in Sardegna, contentissimi della scelta fatta di investire in Sardegna. Abbiamo oggi come Accenture già 300 persone che lavorano per Accenture, tra Accenture e Downhead. Motivo di grande soddisfazione per noi è aver investito in questa regione, valorizzando il talento dei giovani universitari, in modo particolare dell'Università di Cagliari. Per cui, con grande soddisfazione, giovani bravi e motivati e molto formati. Questo per noi è un invito anche a fare meglio, abbiamo piane anche di crescere, per cui che ben venca e grazie a tutti anche su tutto il sistema universitario.